di youtube che cosa è accaduto questo studio avevo dato l'estratto 51 nel metodo che era che era in gioco ieri l'ho dettato che avevo sbagliato anche il giorno della data che avevo detto che stavamo oggi 21 luglio ieri era 20 giugno no 20 luglio oggi è 21 giugno mi sono sbagliato ho avuto un buoto di mente per colpa dello studio che ho fatto all'otto 51 che stava in gioco su bari se andate a rivedere il video di ieri 20 giugno oggi è 21 avevo dato l'estratto 51 per questa sera un peccato per un punto è stato perso è uscito il 50 su bari però amici se vedete avevo detto avevo detto avevo detto che cosa avevo detto che cosa avevo detto il numero 15 che uscivo 15 51 ipertibere e 15 e uscivo su bari nel metodo il numero 15 poi dovevo uscire il 51 su bari questa sera non è andato questa sera che cosa è successo mi hanno contattato in privato i nuovi clienti mi ho contattato signor zollo vogliamo qualche previsione all'otto io ho detto sentito volete una unica previsione non ci sono problemi ce l'ho ce l'ho la previsione io l'ho data io l'ho data che cosa ho dato youtube che cosa ho nominato 15 su bari che è uscito poi 51 su bari che stasera non è ancora andato io ho detto per avere l'ambo vicino il 51 contattatemi in privato perché io non potevo regalare l'ambo ho regalato l'estratto se volete l'ambo mi dovete chiamare in privato chiamarmi a 349 78 09 576 e il signor zollo vi risponde e vi fa fingere primo colpo di gioco avevo nominato si è 51 e si è 15 primo colpo di gioco che cosa è accaduto abbiamo fatto boom 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 51 e 15 andato su ambo su torino l'ho consigliato su bari su cagliari ai miei clienti che mi hanno chiamato oggi e con i nuovi clienti e 15 51 su tutte hanno fatto boom 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 su tutte e andato su torino guardate vi faccio vedere se lo vedete torino boom 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 primo colpo di gioco ambo torino 15 51 lo vedete lo vedete quanto è bene 52 è uscito il 50 per un punto abbiamo perso però è andato su firenze il 51 lo vedete amici di youtube non sono chiacchiere ho dimostrato di nuovo la mia vendessima volta che sono un professionista dell'otto non mi criticate inutile che non vi sento nemmeno che i commenti che mi fate negativi non vi sento non vi vedo vi escludo non mi commento nemmeno perché io so la mia bravura ce l'ho la mia bravura ce l'ho contattatemi in tanti e vincete veramente seriamente su youtube amici veramente vincete veramente vincete veramente sull'otto su unica rosa e su tutto vincete o quando a primo colpo vincete sta ancora in giochi 51 su bari che andrà anche 51 su bari l'ambo è andato 51 e 15 è andato è andato a segno primo colpo di gioco e l'ho saputo piazzare anche il video su youtube perfino che avevo studiato benissimo ieri la giornata di ieri per questo avevo sbagliato il giorno che avevo pensato 21 lucio che la mente era andata a fumo ero stanco contattatemi a 349 7809576 e vincete tutti voi in italia vincete tutti amici tutti 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 contattatemi non contattati i lottolici che fanno solo chiacchiere io avete visto la bravura la vera bravura avevi sentito 51 15 51 è stato 15 chi è stato diritto e hanno pensato vabbè ma che cosa ha detto 15 è uscito su bari nel metodo mo dovevi andare in gioco il 51 però noi che siamo giocatori andate a giocare 15 51 su tutte e su bari andate a giocare il 51 che manca ancora su bari e poi andate a giocare anche su bari in ambo tanti di voi che vi piace il 90 su bari se l'ha potuto associare anche il numero con il numero 90 perché su bari e cagliari tanti giocatori i numeri lo associano con il 90 perché il 90 è un numero diciamo che va spesso a bari che cosa ha pensato il giocatore 90 51 e 15 bari e cagliari 51 come è stato a bari 15 51 su tutte e chi ha pensato bene così ha beccato su tutte 51 e 15 se andavo in 90 vicino il 51 e 15 era eterno perché il numero 90 tutti tutti chi mi chiama in privato marco però questi numeri lo posso mettere vicino il 90 io dico quale è il problema giocati prima l'ambo che vi ho dato io poi vi mettete il 90 per i fatti vostri che se esce il 90 si vince comunque buona fortuna a tutti il 51 sta ancora in gioco e si vince e si incassa con il 51 faremo boom 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 con il 51 stasera si è stato fatto boom 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 con il 51 e 15 su tutte come ambo 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 un bacione e al prossimo video e alla prossima vincita ciao bye bye e ricordate 3 4 9 7 8 0 9 5 7 6 vincerete intanto contattatemi da domani mattina fino a domani sera in privato vi sto vi do ampi buoni e vincete tutti voi amici di youtube contattatemi da domani in poi non avete paura di contattatemi vincete avete visto la mia super grande bravura che nessuno in italia nessun lottore come si riesce a mettersi in gioco su youtube io ho dato poco ristretto e uscito ok ciao ciao ciao